Una mappa in bronzo tridimensionale che rende visibili al tatto le forme della città Tocca Napoli con mano è un'iniziativa realizzata dai giovani del Rotaract Club Napoli Nord-Est per il mangio dei monumenti e da sabato mattina sarà installato in Piazza dei Martiri La mappa rappresenta il cuore di Napoli e anche la sua straordinaria varietà alta e metrica da 0 livello del mare fino a 250 metri su Castel Sant'Ilmo e vogliamo dare la possibilità agli povedenti di avere una concezione più completa dei luoghi in cui vivono Forgiato dall'artigiano Ciro Nocerino il modello dedicato agli povedenti è una rappresentazione in scala che ricopia fedelmente il profilo altimetrico e urbanistico della zona centrale di Napoli I ragazzi del Rotaract hanno lavorato per un anno alla realizzazione del progetto con il contributo di professionisti e cittadini napoletani Neanche in 12 mesi dei ragazzi con impegno, con professionalità e anche con sobrietà si sono rapportati con le amministrazioni locali, con la sovrintendenza e quindi hanno demolito quello che spesso è un sentire comune che per fare le cose è difficile, che ci voglia troppo tempo è in atto un cambiamento è veramente una cosa straordinaria perché è una realizzazione fatta da ragazzi fatta da privati con molta buona volontà con raccolta di fondi tra le persone e che sia molto bella perché permetterà alle persone che non vedono di avere un'idea della città, dei monumenti ma anche delle colline, del golfo, del porto, del mare e comunque permetterà a tutti noi in bronzo di vedere a Piazza dei Martiri una Napoli nel suo insieme affascinante con una visione oggettivamente diversa